Benvenuta o benvenuto su Restira Mondo, oggi vogliamo portarvi con noi in una big party, big celebration Oggi qui a Genda è festa, c'è un festival di cui vanno, cioè sono tutti molto excited Mamma mia dovete vedere Con una roba molto entusiasta, sono tutti molto entusiasta di questo festival del mandarino Del mandarino, ma tanto che i miei negozi sono tutti addobbati a tema Sì, e poi c'è un programma di due giorni, oggi e domani, anche se in realtà noi domani lavoriamo Con il truccabimbi, la gara di taglio, non so, ci sono delle robe strane Nel pomeriggio andiamo e quindi vi portiamo un po' con noi Pronta per il grande festival Non vedo l'ora Excited Veramente Vediamo cosa ci aspetta E non vedo l'ora vedere il taglio dei moipani O come si chiama Quel taglio Sì, ah, perché stiamo andando a vedere una competizione Mullet Si chiama Mullet, è il suo taglio per cui tu sei rasato i lati e hai capelli molto lunghi Praticamente dicono businessman davanti E non mi ricordo che cosa dietro Non lo sapevo Me lo dicevano stati nei francesi Vabbè, vediamo a vedere Vediamo la gente Vita Vediamo della gente Oh mamma Vedo la gente che cammina Vedo le persone vive Ci sentivamo Vedevamo solo coppiette Quindi abbiamo deciso anche noi mano nella mano Ma quanto è bello Io adoro tutto ciò È superissimo Ecco la grande festa Cioè Wow Non ho idea di cosa ci sia qui Ah, qua è la sfida dei capelli che vi dicevamo Questo praticamente è il taglio di capelli tipico Vedete quello che dicevo prima Porto davanti, lungo dietro E qua c'è la gara E non ho capito in base a cosa Ma vinceranno qualcosa Guardate Quello Come rifa Ah Guardate come li fanno vedere Proprio orgogliosi del Dei loro capelli Ahahahah Ok Ok, ragazzi e ragazzi, let's get the show under a road. This is the magnificent mullet competition brought to you courtesy of Angela's hair and beauty and also the wonderful going to Orange festival. Come on, Orange! How is this event? This is the biggest competition that I've ever seen in the world. ma non è nella tua vita però questa è stata venduta ma cos'è? hanno la pasta già fatta raga aiuto questa cosa è illegale è illegale questa che è? margarita sì perché devi bere per non renderti conto che è finta ma cos'è? ma no non ci voglio prendere anche i nostri capi i nostri capi ma quanto è piccolo con lo strato questa roba però mi ricorda un mio tatuaggio oh raga vuoi la maglietta? anche i gadget è un'altra roba è un'altra roba è un'altra roba è un'altra roba ecco come festeggiano fanno le loro sagre di paese interessante è stata un'esperienza direi proprio interessante e quindi niente con tutto questo arancione e tutti questi mandarini vi diamo appuntamento alla prossima avventura iscrivetevi al canale grazie a tutti i nostri capi grazie a tutti i nostri capi grazie a tutti i nostri capi